Allora, praticamente da dieci anni a questa parte mi occupo della mia crescita personale nel senso che ho dei vari livelli Reiki, Pranica, Energy, Healing, varie scuole di esoterismo e vari percorsi, Gregory, Grabbo, eccetera. E in tutti questi percorsi ho imparato a canalizzare a questo punto, lo so, canalizzare esseri di luce perché spesso in maniera auditiva e anche per via di visione ho avuto la presenza del Maestro. In alcuni momenti, tipo nelle giornate del Besak, questa energia che mi è arrivata e ho canalizzato delle parole del Buddha, eccetera, eccetera. Quindi, cosa dire, ho letto tantissime cose sugli angeli, sugli arcangeli, eccetera, eccetera. Però tutto questo, da due mesi a questa parte, come vi dicevo, è stato messo in discussione. In discussione perché l'idea che tutto quello che io ho vissuto in questi anni possono essere interferenze o ologrammi che mi vengono rimandati, questo mi ha spiazzato. Ho chiuso la comunicazione medianica e ho smesso di nuovo dipingere, perché sono un artista, mandala, perché mi arrivavano disegni esoterici con vari simbolismi e mandala. E premetto che io facevo arte iperconcettuale, iperrealistica. Ho avuto un blocco per quattro anni, poi dopo una canalizzazione potente del Maestro e degli angeli, sempre tra virgolette, mi è arrivata un'energia potentissima, una commozione incredibile, è come se una settimana dopo mi hanno riattivato di nuovo il canale della pittura, perché non dipingendo io stavo morendo, praticamente, dentro. E ho cominciato a disegnare mandala. Poi ho cercato cosa potessero essere, da lì ho cominciato a insegnare corsi sul mandala, eccetera, eccetera. Bene o male, questo è. Poi ho mandato a Barbara dei punti. Il primo lo eliminiamo, perché in questi due mesi ho avuto modo di riflettere, tra l'altro. Se è possibile vorrei dirti. A parte il fatto che, da che seguo questi video, mi sono ammalata tantissime volte. Varie tipi di influenza, dolori, non sono stata molto bene. E una notte sono stata svegliata da una voce che mi diceva all'orecchio, ascolta, pronunciando il mio nome, tu non hai nessun impianto, forse ce l'avevi, ma ti si sono stati tolti. Comunque io, in perterrita, sono andata avanti nella mia decisione di voler fare la sezione, perché a questo punto devo capire tutto quello che ho fatto, su quale strada muovermi. Non lo so, vuoi che elenco i punti? Sì, velocemente sì. Allora, il primo no, eliminiamolo. Poi vorrei sapere la causa che da 10-15 anni mi affligge, la sinusite cronica, conclamata con sinusite cronica, ma vorrei capire la mia causa esoterica. Mi procura tantissime, fortissime mal di testa. Non ogni giorno, però. in questi due mesi poi è andato sempre peggiorando. Poi, questo... Poi un'influenza che ho avuto alcuni anni fa, bruttissima, dopo per due anni e mezzo, tre anni, ho perso sia l'olfatto che il gusto. Quindi anosmia, conclamata come anosmia, ma cerchiamo di scoprire la causa esoterica. E poi, a oggi, muoio dal dolore, sembrerebbe sciatalgia, che dietro le gambe, fino alla zona sacrale, come sto coricata, mi fa veramente male. Ho anche problemi ad andare anche in palestra. La verità è questa. E quindi vorrei capire cos'è. Cioè, possibilmente perché nel tuo test, quando mi è arrivata che all'età di 15 anni sono caduta dalle scale con la mia bambina piccolina, perché l'ho avuta a 15 anni, e in braccio. Mi è arrivata quella come immagine. Possibilmente è collegato, non lo so. Vediamo. E poi, ah, blocco artistico completo, proprio zero risorse finanziarie. Cioè, da sette anni, cioè, non entra niente, o poco, quello che è. E credimi, di talento non è per vantarmi, perché sono una persona umile, però ce l'è tanto. Tanto mostre in varie parti d'Europa, e quindi... Però blocco. Un blocco. Non riesco a vendere niente. Neanche la collezione Nuova dei Mandala, proprio... Niente. Quindi questo, il mio non essere indipendente, mi causa una frustrazione incredibile. Quindi, e poi l'altra, che col mio compagno da sette anni, sempre casini, cioè, non c'è tranquillità, proprio. Non c'è tranquillità, cioè, sempre casini. Ai tempi, cioè, un annetto fa, ho scoperto parlando, che lui vede una sua ex, morta 25-30 anni fa, e che lui la vede, gli appare in sogno, la vede spesso quando noi mangiamo, e lui decide di andare anche da un prete, per vedere se toglierla. Ma questa non se ne va. Vorrei capire se anche questa è la causa dei nostri disastri nell'armonia sentimentale. Perché è un casino, guarda. Un mese insieme, un mese no. Ma per niente, per niente, credimi, per niente. Cioè, nervosismi, forse dal fatto anche che lui non dorme mai, che dalle due si sveglia e non dorme più nessuno. Non lo so. Quindi abbiamo detto finanza, amore, poi che cosa? Ma io credo che già basti. Abbiamo finito. Sì, perché alla fine poi la causa esoterica è una. Cioè, puoi dire, la causa primaria è sempre una. Ok. O quasi sempre. Sì. Non so se qua è un messaggio tutto giusto. Vabbè, intanto vorrei dire, giusto per dare anche una mia opinione. Sì. Ma se quando scopre che potrebbe esserci dietro un inganno, potrebbe esserci un inganno, comincia a chiudere tutti i canali. E sì, sta bene questo. Però il canalizzare, ricevere informazioni, in sé non ha nessun rischio. Il rischio sta nel come una persona fa sue queste informazioni. Tu immagini tutte le informazioni che io ricevo dalle ipnosi, per esempio. E sono tutti mondi, diciamo, di basse frequenze, no? E sono informazioni che, per quanto contaminate possano essere, a me servono, se analizzate in una certa maniera, per fare ricerca, per scoprire delle cose, nonostante arrivino fortemente contaminate. Quindi una persona, se è equilibrata, se sa analizzare le informazioni, se sa usarle, anzi, potrebbe essere pure un vantaggio. In un altro caso, invece, il fatto di dover prendere tutto per buono, per orocolato, o per fare di tutte le informazioni qualcosa di proprio, qualcosa su cui basarsi, ecco, lì sì, ci potrebbe essere qualche problema, ma non tanto per l'informazione in sé che si possa interpretare in una maniera o in un'altra, se non tanto perché qualcuno sempre si lascia andare alla guida di un altro. Quando il vero equilibrio si ottiene, quando uno è perfettamente indipendente ed autonomo, e soltanto poi quando si raggiunge questo equilibrio, si può interagire con chi che sia. Una cosa è l'interazione, un'altra cosa è l'interferenza. Una cosa è dove si è parte attiva, un'altra cosa è dove si è parte passiva nella relazione. Quindi, questo dico un po' per tranquillizzare. Per tutti. Io volevo aggiungere una cosa, ho chiuso tutto pure, nel senso che il maestro era la mia guida, era la mia guida, parlo spesso con il mio essere superiore, però faccio energie, faccio trattamenti energetici, di chakra, con il pendolo, con il biotensor, quindi ho detto alt, io non faccio più trattamenti a nessuno, neanche su di me, costanto un po' di energia, sì, però ripeto, il trattamento, anche l'ipnosi, anche l'ipnosi è un trattamento energetico, che può essere paragonata ad altri tipi di trattamenti che tu hai fatto. Non è tanto in sé il trattamento, lo strumento che si utilizza per fare questo tipo di lavoro, ma è tanto come lo si fa. Per esempio, con questo metodo, il lavoro lo fa esclusivamente la persona interessata, che sta in ipnosi, o se qualcuno sta lavorando in ipnosi, telepaticamente, vale. Però la persona stessa, con le sue forze, le sue frequenze, anche perché nella propria sfera energetica il potere è assoluto, siamo onnipotenti nel nostro spazio energetico, ed è lì che dobbiamo ripulire e lavorare. Non c'è bisogno di nessun altro, né buoni né cattivi, nella fine, né alti né bassi. Lì siamo solo noi, e dobbiamo starci solo noi. Se poi ci mettiamo dentro gli altri, è un altro discorso. Quindi qualsiasi trattamento si faccia, se il lavoro si fa, solamente attraverso noi stessi, e invece di lasciarci andare a forze esterne, che può essere sì pericoloso. Sì, ho chiesto l'aiuto a forza, cioè ai maestri, a scesi... Potrebbe essere pericoloso, sì, potrebbe essere, potrebbe darsi che stiamo pensando di fare una cosa, ma in realtà ne sta succedendo un'altra. Questo sì. Questo lo verifichiamo, sì, perché no. Ok. Va bene, metti di comoda Maria, vai. Allora, io ho scelto, forse devo girare qua, e non so, io voglio stendere, ok? Certo. Quindi, scusa un attimo. Ok, allora andiamo. Io non conosco la tua suscettibilità ipnotica, sembra abbastanza buona, però io prima comincio con un'induzione cosiddetta corta. Cioè, poi vedo che non dovesse essere sufficiente, continuo con una un po' più lunga. Allora, io adesso conto solamente da 10 a 1, e questo lo faccio solo affinché tu ti rilassi. Poi comincerò a farti le domande, o continuo l'induzione, questo già lo vedremo, però per adesso devi solo rilassarti, chiudere gli occhi e non pensare a niente. Io conto da 10 a 1. Mi chiami tu? Io sono pronto, quando vuoi. No, cioè, ah, ok. Che volevi dire quando ti chiami? Cioè, se da 1 fino a 10 dovessi vedere qualcosa... Beh, avvisami. Ok. Mi avvisi e cominciamo subito, non perdiamo tempo. Ok. Io conto da 10 a 1. E ti rilassi. Ok. 10 9 8 7 6 Sei... Cinque... Quattro Tres Un Due Un 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 E adesso, conto da uno a tre. Mentre conto, vai ad un ricordo o ad un sogno, conto da uno a tre. E vai lì. Uno. Due. Tre. 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 nella l'induzione 15 anni o la bambina piccola di sei mesi cinque mesi in braccio mi suona mi suonano al citofano io ho degli zoccoletti è stata gli zoccoletti sono con la cinghia gialla ho un po di tachycardia adesso normale è il mio ex marito che suona perché eravamo lasciati forse voleva vedere me la bambina io mi affretto prendo la bambina in braccio e c'è una lunga scalinata di marmo bianco in questa vecchia casa l'ultima rampa di scale faccio uno scivolone riesco a trattenere la bambina in braccio io cado ma mi manca il respiro rimango immobile non riesco a chiedere aiuto ho un dolore lancinante alla zona sacrale non riesco a chiamare mamma perché mia mamma è sopra al primo piano e io e io la bambina in braccio non si è fatta niente per fortuna ma non so come arrivare di nuovo in alto e chiamare aiuto sai cosa vuoi fare adesso puoi andare ad osservare cosa è successo lì nella tua schiena vai a vedere con l'occhio della tua mente entra dentro il tuo corpo ho una piccola lesione dove alla zona sacrale muscolare penso a livello osseo una piccola lineetta un piccolo segno adesso questa stessa zona che stai guardando osserva la però adesso nel tempo presente da dove ti sto parlando dimmi come la vedi adesso 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 è saldata però leggermente rigonfia la parte muscolare e c'è una leggera pretuberanza la pretuberanza è ossea? può leggere che nessuno nota però c'è e il dolore? il dolore mi si focalizza quasi adesso Maria io conto da 1 a 3 e a 3 tu vai esattamente al momento in cui è caduta la linea a quel ricordo in quel momento al mio 3 1 2 3 sei lì eh beh oggi mi dicevi cosa come lo vedo dimmi come vedi oggi come vedi oggi quella ferita saldata nel tuo bacino nell'osso sacrale l'osso sacrale sì vedi una pretuberanza mi hai detto? sì c'è una leggera pretuberanza che si vede solo con le lastre però a livello muscolare c'è quindi questa pretuberanza infiamma la parte muscolare perché striscia in qualche maniera no? in maniera non dovuta su quella zona giusto? bene sì buono non c'è altra spiegazione quello che puoi fare di non fisico è quello di riequilibrare quella zona con le tue frequenze non c'è bisogno di saperlo fare questa non è la parte razionale che lo fa è la tua parte subliminale lei sa quello che devi fare tu con le tue mani eteriche immaginarie energetiche le appoggi lì su quella parte finché non vedi che quella parte si calma che l'infiammazione energetica si calma fallo e nel frattempo mi dici cosa succede ah un po' mi è venuto un po' di prurito alle gambe bene alla gamba sinistra bene se vuoi puoi anche programmare i tuoi nervi in quella zona in modo che ti diano sì la sensazione di dolore perché ti avvertono di un'inflammazione ma di ridurla per non essere così fastidiosa vuoi farlo? ok ci provo passa le tue mani trasmetti questa frequenza ai tuoi nervi e vedrai che il dolore comincia a calmarsi e a rimanere soave anche nel tuo futuro quando vedi che quella zona è riequilibrata mi avvisi ok vediamo bene adesso adesso osserva nel tuo futuro per esempio fra sei mesi osserva quella zona e dimmi se la vedi così infiammata o così dolorante da darti fastidio a fase alterna come senti il dolore nel futuro? lo sentirai alla stessa maniera? non lo so va bene intanto andiamo dall'altra parte adesso andiamo indietro nel tempo e andiamo ad un momento qualsiasi in cui tu stai facendo un trattamento energetico o sei in una canalizzazione in un lavoro esoterico uno qualsiasi vai lì e sono in un seminario di due giorni bene cosa studi in questo seminario? un po' di tutto ok perché ti sei agitata quando hai visto questa cena? no non mi sono agitata abbiamo fatto in gruppo eravamo 13 18 non mi ricordo le respirazioni e io avevo già 20 minuti che facevamo respirazioni delle respirazioni mirate e io mi ricordo fui l'unica che in questo gruppo mi comincia ad arrivare l'energia come sento adesso mi arriva l'energia dall'altro ascolta blocca il tempo ferma il tempo così non succede niente bloccalo tutto è un'immagine ferma adesso ho i brisi è normale blocca il tempo ho l'energia blocca il tempo osservati dall'alto come se fossi fuori dal tuo corpo scegli un punto e dimmi più o meno da dove ti osservi dall'alto vedo si ti vedi da dietro davanti di lato davanti davanti un po' più in alto di due metri vedo Maria che comincia a tremare ok ascolta ascolta Maria dimmi come vedi questa energia mi pervade tutta comincia le gambe come la vedi ha un colore una forma come la vedi non la vedi la sento ok adesso al mio 3 tu vedi esattamente da dove arriva questa energia al mio 3 1 2 2 vai alla fonte di questa energia 3 da dove arriva no non lo so osserva la scena dimmi la tachicardia io vedo solo la mia scena che ho la tachicardia è un'immensa commozione piango stai vedendo adesso la scena energeticamente cioè non solo vedi le persone che stanno lì con te ma puoi vedere quello che gli occhi fisici non vedono puoi vedere le energie puoi vedere le entità quello che si attualmente puoi vedere oh ho un arcobaleno forse attorno ho dei colori tutto attorno a me dietro da dove arriva questa energia che mi avvolgono da dove arriva questa energia dall'alto bene adesso vai in alto e vai a vedere da dove arriva è spezzato ora vedo questo cono di arcobaleno spezzato lo porto fino in alto lo seguo si 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 seguilo fino alla fine tu stai solo osservando non può succederti niente vai all'origine di questa energia alla fonte da dove arriva questa energia adesso questo cilindro d'arcobaleno che mi avvolge si fa sempre più sottile finché diventa un filamento collegato nell'infinito lassù devi andare al punto da dove comincia l'energia vai lì cosa vedi Maria? Maria? si ho questa tachicardia che è la tachicardia è normale non pensarci dimmi solo no cosa vedi da dove arriva questa energia non vorrei sbagliarmi perché l'ho visto in astrale è una o slargo come se fosse fosse un'astronave e c'è al centro di questa astronave che già ho visto in mio viaggio uno spiazzale vuoto non è vuoto ci sono delle persone allora hai visto stai vedendo una nave un UFO? sono direttamente dentro sei dentro l'UFO adesso guarda l'UFO da fuori voglio sapere da fuori che forma è dentro c'è il sole sono dentro il sole dentro il sole c'è un qualcosa che ha dei come se fosse un'astronave a raggi questi raggi questi tubi metà verso l'alto sono trasparenti e vedo l'universo metà no e si convergono al centro con uno spiazzale c'è uno spiazzale al centro già ho visto questo posto bene osea sei dentro una nave corretto? penso che una nave sia sì descrivimi come il luogo dove sei è come se fosse la torre di controllo di qualcosa ma perché vedi come dei computer dei tavoli cosa vedi? non lo so intuitivamente credo che sia il centro di raccolta di comando bene chi comanda questa nave? non lo so chiama il responsabile vedo sfocato non so se è giusto quello che mi appara non ti fare domande perché se no utilizzi la parte razionale e indebolisci la parte irrazionale ci sono io qua a decifrare le informazioni che mi dai non ti preoccupare è in trasparenza molto sfocata vedo un'entità blu un'entità blu con una tuta no con una tuta blu ma la pelle i capelli sono chiari bene allora l'informazione tu la capti l'assorbi dall'intorno dall'ambiente questa informazione che ti arriva ti arriva dall'ambiente quando farai delle domande a questa a questo essere le dovrai confrontare con le informazioni che ti arrivano dall'ambiente d'accordo? Maria? ah si bene degli di avvicinarsi di presentarsi davanti a te assomiglia a quello che vedo su internet il biondo? ah con la mano sollevata? si chiedigli come si chiama vabbè mi dice Ashtar Sheran lo sai ti dice così? si Ashtar Sheran Ashtar Sheran me lo descrivi un attimo così come ti si presenta? ripeto è sfocato però riesco a capire è sfocato ci penso io al mio 3 ascolta Maria al mio 3 tutta l'immagine diventa ad alta definizione e vedi perfettamente tutti i dettagli al mio 3 1 2 3 adesso si lo vedi nei dettagli ha una tuta blu aderente al centro al centro un 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 qualcosa di metallico color canna di fucile nel petto come se fosse un'aquila al centro come sono le mani adesso ha dei guanti bianchi non lo so come sono gli occhi azzurri come sono i capelli biondi lunghi lunghi fin dove al collo le spalle va bene non so le pupille stanno cambiando dimmi come le vedi linea verticale bene ascolta adesso di questo essere tu puoi leggere il codice genetico osserva il suo tu non devi saperlo fare perché adesso lo stai chiedendo quella parte razionale la tua parte subliminale sa come fare e la parte subliminale ascolta le mie istruzioni quindi al mio 3 tu non devi sapere ma si è sfogliato si è sfogliato è verde questo non è più blu al mio 3 tu leggi il suo DNA e ricostruisci la sua forma originaria 2 3 eccolo lì cosa vedi sembra verde ma che forma assomiglia a qualche animale o è sempre un numeroide più o meno no è tutto verde però i piedi palmati si la testa grossa però non è tra un serpente è misto chiedi adesso come si chiama e non ha più una tuta solamente una una specie di non mutanda qualcosa che lo copre qua adesso chiedigli nome nome come si chiama Ugor Ugor e Ashtar dov'è? chiedigli nella tua testa mi fai parlare direttamente con Ugor però solo se ti senti comoda ho i brividi vuoi che mi lasci parlare direttamente con lui e comunque se non dovessi sentirti comoda nel canalizzarlo puoi disconnettere automaticamente quando vuoi d'accordo? ok mi lasci parlare con Ugor? si se riesco si Ugor mi senti? Ugor ha detto una parolaccia puntini puntini che vuoi ascolta non ti preoccupare dimmi anche le parolacce l'importante è che non usi la parte razionale tu semplicemente lasci fluire l'informazione d'accordo? ma quante palle dai dimmi forza muoviti basta ora Ugor dimmi cosa vuoi? mettiti la coda in mezzo alle gambe quando parli con me calmati ecco così va meglio Ugor e la star Sheran di prima dove sta? nella sua mente nella sua mente vuoi dirmi che questo ashtar non esiste? sì dove esiste? nella testa di molti nella testa di molti significa che non esiste realmente? esiste esiste dove? se si riproduce e in altro comando e tu perché ti sei presentato con la sua forma? e la sua identità? è più credibile non pensi che possa spaventarle se mi presento con la mia vera identità? c'è ma scusa tu ti presenti a lei così quando lei è con me? e adesso se io vado ad avvertire a star che tu hai preso la sua identità ah si incazza e adesso io vado no no facciamo questi giochetti ah vai al sodo dai vai forza dimmi vai al sodo che cosa ci che cosa ci fai con Maria? le inganno che vuol dire le inganni? cosa fai? quello che faccio con molti a fare credere cos'era quell'energia che gli è arrivata addosso? ah lei crede che sia energia di amore compassione luce e facciamoglielo credere dai però scusa come fai a farglielo credere? ci sta così bene come fai a fargli accettare questa energia e a farla sentire così comoda in questa energia? dove prendi questa energia? dai nostri macchinari macchinari che producono e frequenze più alte perché io non le posso produrre più alte quindi i macchinari le producono a posto mio e io le coinvolgo coinvolgo che analizzo chi ti ha dato questa tecnologia? ci siamo evoluti a discapito vostro lasciami con Maria Maria disconnetti disconnetti Maria disconnetti come ti senti? come ti senti? ma le dicevo era lui cioè io parlavo come lui Maria tu come ti sentivi quando lo canalizzavi? non potevo controllarmi le parole che lui voleva dire ti ricordi le parole che hai detto? bene o male sì bene ottimo lavoro ottima canalizzazione adesso però dimmi come lui è arrivato ad avere questa tecnologia che è capace di cambiare la frequenza delle energie adesso questa piazza questo slargo di questa astronave vedo i comandi vedo i comandi i pulsanti di tanti colori e quindi avranno la strumentazione adatta per dimmi come fanno a cambiare la frequenza di questa energia qual è il principio di funzionamento? l'informazione è lì ovunque devi solo assorbirla il principio di funzionamento del cambio di frequenza energetica prende l'energia ad alta frequenza nostra viene incalanata in un'apparecchiatura in un'apparecchiatura viene incalanata questa energia per cosa usano questa energia questa energia per le costruzioni olografiche olografiche questa energia nel caso di quel seminario per esempio veniva prelevata dalle persone che non li presenti per esempio no dimmi da dove viene prelevata questa energia da dove è venuta da dove è stata prelevata vedo solo me avvolta in questa energia sì questa è un'energia che tu stai ricevendo ok no cioè che la stai ricevendo o la stai dando? cioè come un rimando sì io do questa energia e di rimando mi arriva tutta questa energia arcobaleno come un salire uno intercambio ok dimmi dimmi però Maria la frequenza dell'energia quando esce da te e va verso l'UFO e la frequenza dell'energia quando entra in te dall'UFO ma mi arriva 800 MHz 800 sale? esce? e quando entra? a che frequenza entra? 2005 oh perfetto ora voglio sapere nel tuo corpo emozionale il tuo corpo emozionale come interpreta questa frequenza 800? che emozione senti? che emozione stai dando? la voglia di connettermi desiderio? curiosità? connettermi voler produrre qualcosa da quel lavoro che stavo facendo e quando invece arriva 2005 con quale come interpreta questo il tuo corpo emozionale? come la senti tu questa energia? quale emozione senti? sento commozione voglia di casa di di essere agganciata come se tornassi a casa come una forte commozione il corpo che che trema adesso Maria voglio sapere come passa questa energia da 800 a 2500 vai lì dove si trasforma è come se arrivasse questa energia a 800 in questi in questo macchinario questi comandi circolari circolari e gira 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 e questo vortice può rimandare un'altra più frequenza bene osserva solamente se la quantità di energia che esce rispetto a quella che entra è diversa al cambiare la frequenza mi spiego meglio mi spiego meglio se entra per essere modificata una unità 1 a frequenza 800 quando esce a frequenza 2500 rimane di unità 1 o cambia la sua quantità o il suo volume così meglio vogliamo definire quando esce come quando entra 2005 non esce non riesce a uscire tutta rimane un po' nel mio corpo no vabbè voglio dire un'altra cosa non fa un'importanza d'accordo adesso dimmi osserva quante volte osserva se questo essere ugor è collegato con te adesso lascia stare l'energia andiamo da un altro andiamo a vedere tutto da un altro punto di vista è collegato con te ugor certo dimmi come lo vedi collegato con te come se vedessi dei filamenti energetici che mi invia vedi degli impianti nel tuo corpo comincia dalla testa osserva dentro la tua testa dimmi se vedi dei dispositivi e strani nella fronte è come se vedessi un cd piccolo un cd con un buco al centro nella fronte e poi cos'altro vedi e due piccoli nelle orecchie cos'altro dimmi a cosa da queste da queste dal centro della della fronte si ripartono delle orecchie si ripartono dei filamenti che vanno dietro che mi avvolgono tutta la colonna vertebrale sostano al centro della zona sacrale e continuano a diramarsi giù avvolgendo anche il bacino a cosa servono questi dischi a cosa serve questa rete che dai dischi dalla testa arriva fino alle gambe a collegarmi con questo essere bene ed esattamente il cd sulla fronte a cosa serve a mandarmi le immagini che vogliono loro a bloccarmi per esempio quale immagini ti hanno mandato alcune maestro Yeshua sul monte Kalash il maestro di cui mi parlavi Gesù il maestro di cui mi parlavi prima di cominciare la sessione Gesù era? si come perché la mia dicono sapevo che era il mio spirito guida e quindi tutto vestito di bianco con i capelli neri in questo monte bianco dove mi fa fare dei lavori mi suggerisce dei messaggi personale per l'umanità bene adesso al mio 3 apriamo una parentesi al mio 3 mi ripeti uno dei messaggi di questi maestri al mio 3 apriamo una parentesi per vedere come ti arrivano i messaggi come ti sono arrivati 1 2 3 vai ma parlano mi parla d'amore che il mondo è il mondo è lascia fluire verso l'orlo lascia fluire l'informazione non l'analizzare non parlare in terza persona lascia andare tutto presta le tue corde vocali non c'è niente il mondo è verso l'orlo del precipizio a un passo da là a un passo da là dal precipizio serve una rivoluzione delle coscienze per evolvere come entità umane serve l'amore serve la compassione serve l'impegno non la paura la paura è un'energia la paura è un'energia è come qualsiasi energia può essere manipolata può essere azzerata con la paura non si può andare avanti il mondo non può andare avanti tu non puoi andare avanti sii guerriero sii coraggio siate i messaggeri e i portavoci dell'amore è del coraggio l'amore è l'unica chiave del cuore bene chiudi la parentesi da dove arriva questa informazione questo messaggio osserva io ho visto di nuovo Gesù con il monte calos e osserva se questa immagine è olografica vedo una cinepresa vai alla fonte di questo ologramma una base di controllo quella in cui siamo stati prima si e chi è a capo di questo progetto allora chi è il capo di tutto questo adesso per un attimo ho visto la nave ed è ho visto anche non l'ho visto più la nave ho visto delle energie blu tutte blu puoi identificarle hanno un DNA identificale ricostruiscile informazione lì davanti a te umanoidi viene umanoidi e Ugor dove è Ugor in quella base Ugor collabora con questi umanoidi non sempre è un subordinato no ognuno fa il suo lavoro chi ha più potere in questo progetto l'umanoide o Ugor il rettiloide sembra Ugor perché ha creato degli impianti a cosa servivano gli impianti nelle orecchie a distogliermi ok osserva adesso nel tuo ventre Maria dimmi se c'è qualcosa nel tuo ventre qualche dispositivo estraneo qualche impianto come se avessi un anello che mi blocca l'utero e infatti da sette anni sono diventato sterile può essere allora facciamo così andiamo al momento in cui è stato inserito questo anello all'utero vai dove sei dove sei Maria in un tavolo di acciaio mentre sei lì su questo tavolo di acciaio dove è il tuo corpo fisico dorma che anno è? 1990 1990 1990? 1990 mi arrivano tante date però si è fermato il 1990 perfetto adesso io mi sveglio di notte e ho una paralisi a qualche ora sono? 3 di un mattino penso bene ho paura non mi simono solo gli occhi e non posso urlare sono completamente paralizzata benissimo vai un po' indietro nel tempo a prima di questa paralisi quando stai ancora dormendo tranquillamente voglio che adesso ti guardi dal tetto della stanza mentre dormi appena sei lì dimelo Maria si ti stai osservando dall'alto si beh dimmi cosa succede nel momento della paralisi dimmi come vai su quel lettino di metallo dimmi cosa succede Maria si sto cercando di vedere dimmi che non vedi e cambiamo prospettiva vedo e non vedo vedo come se ci fosse un essere che prende la mia coscienza la mia parte eterica la poggia là e fa un nodo all'utero va bene ti portano lì e lì operano nella tua parte eterica ti mettono un anello nell'utero si chi è il capo di questa operazione un signore vedo qualcuno un cappucciato con un mantello nero digli di togliersi il cappuccio e c'ha tipo lo scherzo come se fosse la morte bene adesso tu lo identifichi secondo il suo DNA basta con questi giochetti olografici leggi il suo DNA chi è? se tu lo tocchi con un dito assorbi ancora più facilmente questa informazione genetica e ricostruisci la sua forma originaria dimmi come si presenta che forma sembra che ha il muso lungo se fosse un coccodrillo a volte serpente a volte coccodrillo chiedigli come si chiama vedo solamente la bocca con tutti i denti bene come si chiama strong mi fa parlare con strong maria mi fa parlare con lui certo bene quando vuoi disconnetti automaticamente se non ti senti comoda nella canalizzazione strong che fai? il mio lavoro qual è il tuo lavoro? mi spieghi cosa stai facendo nel ventre di maria? applico con l'aiuto di altri uno un impianto un affare nella nella zona genitale e a cosa serve? a darle problemi a ogni volta chi ti ha dato l'ordine di metterla lì? che rimane incinta ogni volta che rimane incinta? c'è lei non rimane incinta c'è e arrivano prima da noi cioè prendiamo noi se lei viene fecondata voi prendete l'embrione? sì e lei non rimane incinta bene ma tante volte rimaste incinta l'abbiamo dopo quanto tempo prendete questo embrione? avete preso questo embrione? dopo quanto tempo di gestazione? a volte una settimana a volte quindici giorni perché riprendete? perché hanno un DNA importante cosa ci fate con questi embrioni? ibridiamo fino adesso quanti embrioni avete prelevato da Maria? sette dove sono? alcuni non sono andati a buon fine e gli altri? tre dove sono? in dei cilindri cosa fanno lì? vengono monitorati bene lasciami con Maria Maria disconnetti Maria? eh come ti sentivi quando lo canalizzavi? tranquilla beh osserva questi cilindri devo interrompere disconnetti? diventerò devo andare in banca vai vai pure beh adesso Maria al mio tre vai a vedere vai lì a vedere i tre cilindri uno due tre dove sei? vedo questi cilindri con del liquido cosa c'è dentro? in uno c'è un del liquido rosa in uno azzurro in uno neutro cosa c'è nei cilindri oltre il liquido? vedo color carne però non li so ancora vedere bene vedo che ci sono degli esseri bene adesso riconto da uno a tre mentre conto la tua visione si fa ad alta definizione e a tre vedi tutti i dettagli uno due tre adesso li vedi perfettamente dimmi cosa vedi in uno c'è un neonato un neonato? si neonato cosa vuol dire? un embrione un feto o un bambino? un feto un feto ha la forma già completo come se avesse due mesi una forma umana? si si osserva gli altri l'altra ragazzina un ragazzino cosa vuol dire? una ragazzina cioè quanti mesi di gestazione ha più o meno? no è un tipo un adolescente tutto messo come se fosse un feto bene e l'altro? l'altro è un uomo un giovane uomo bene osserva il futuro di questi embrioni cosa fanno? vai nel futuro e dimmi come li vedi tutte e tre? si per cosa vengono usati? quando fuori dai cilindri? come pezzi di ricambio cioè? mi arriva questo come se non andasse da qualche parte come se queste gli organi o tutto quanto possono servire per per altre destinati a chi? ad altre ad altri ibridi questi tre rimangono in laboratorio sperimentazione beh va bene chi è il capo di questo progetto di ibridazione? sperimentazione mi appare di nuovo Astar Astar cioè Ugor questa volta chi è Astar? o Ashtar? sempre Igor e Ugor ok Ugor Ugor perché si spoglia e vedo tutto il verde di primo bene ok adesso esci fuori da lì vai in un ambiente neutro adesso Maria andiamo alla prima volta in cui tu hai avuto il primo contatto con Ugor vai lì dove sei? sono in una sembra in 1600 sono in una grande sala sontuosamente arredata con enormi specchi dorati come ti chiami? Isabel quanti anni hai? 28 in quale città vivi? Versailles bene dimmi cosa succede vai avanti sono in questo salone un po' buio e ho una grande parrucca alla testa sembro una una nobil donna una ben vestita azzurro con un abito molto elegante d'epoca è un neo alla guancia destra e mi sto guardando allo specchio come se volessi fare gli ultimi ritocchi ma bussano questa porta si si affaccia qualcuno e mi dice che devo affrettarmi che è tardi e dobbiamo andare si continuo vai avanti ma io non lo so dove dobbiamo andare vai avanti la scena la scena si ferma vai avanti nella scena avanza nel tempo eh beh è tardi e e corro nel corridoio corridoio fammi parlare con Isabel mi lasci? si Isabel dove corri? è tardi devo andare c'è una rappresentazione nel palazzo stesso c'è eh un teatro c'è ci sono qual è il tuo lavoro? ne sono una contessa vai come ospite spettatrice? certo sono sposata e devo ben rappresentare il mio marito eh Isabel vai al momento in cui hai incontrato per la prima volta Ugor dove sei? in una cella sotterranea cosa fai lì? mi c'è rinchiuso lui lui chi? Ugor? mio marito tuo marito perché? non lo so mi vuole fare più vedere il bambino nella culla mi 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 muoio la muoio nel sotterraneo nelle carceri e mi si presenta prima di morire un angelo bianco con le ali alla mia sinistra e alla mia sinistra un uomo un qualcosa di incappucciato come se fosse la morte e io capisco che sto morendo perché quello incappucciato è la morte che viene a prendermi però c'è l'angelo bianco che mi dà conforto vuole darmi conforto ma moro là, picchiata e lasciata là quindi viene un angelo e ti aiuta non lo so prima di morire ho queste due entità vicino e capisco cosa fai? so che sto morendo ma è il momento della tua morte sei fuori dal corpo cosa succede? esce il mio spirito sembra un fumo esile che fa dei ghirigori e dove va? cosa succede? vai ad un momento importante va verso l'alto e ci sono queste due entità sempre vicino a questo spirito quando Ugor ha il primo contatto con te chi è Ugor? è lì? Isabel? si toglie il cappuccio e c'è qualcosa di verde sotto tutto questo nero tu vai con questo angelo? vai con l'angelo? no con chi vai? con l'entità col mantello nero e il cappuccio nero e perché vai con questa entità nera? non ti fa paura? dopo ciò che ho provato la sotto la cella la sotto a morire là quello alla violenza che mi faceva il mio marito cosa? dovevo avere paura non c'è niente più che può farmi paura sono così triste quindi vai con lui e dove ti porta lui? non è giusto quello che mi è successo era giovane dove dove ti porta lui? mi porta c'ho uno specchio d'acqua davanti ok ascolta cosa ti dice lui per convincerti a seguirlo? troverai il conforto che che hai sempre cercato non avere paura bene quindi tu ti dai a lui è così? mi faccio trasportare non mi interessa più di niente sono così adesso andiamo al momento in cui si decide la tua reincarnazione sulla terra nella vita di Maria dove sei? dove sei? in quale posto sei? appena nata? no vai nel momento in cui si decide la tua reincarnazione ancora non sei sulla terra la tua reincarnazione in Maria dove sei? in quale posto si decide questa reincarnazione? non so sono sembrava che sono un altro pianeta vedo l'esterno cioè sono nell'universo ma poi sono nello specchio d'acqua vedo l'universo e poi c'è qualcuno che ti sta spiegando scusa se ti anticipo c'è qualcuno che ti sta spiegando che dovrei andare sulla terra? chi ti manda sulla terra? c'è un'entità bianca tutta vestita di bianco con le ali bene cosa ti dici? tu puoi riscattarti da tutto questo tu meriti una vita felice e puoi 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 averla devi riprovarci e tu vai senza lasciami con Maria Maria tu vai sulla terra quindi? dopo queste parole? sì sono dentro la pancia di mia mamma beh chi era quest'angelo con le ali bianche leggi il suo DNA ritorna lì a leggere il DNA ha un vestito da uomo giacca e pantalone bianco le ali bianche i capelli biondi un cerchio dorato alla testa bianco bellissimo ma se lo guardò bene negli occhi ha gli occhi tipo da rettile bene decifra il suo codice genetico e ricostruisci la sua forma originaria puoi leggere il suo codice genetico nell'iride dell'occhio parti da lì io l'iride la vedo come un serpente bene adesso osserva tutto il corpo oltre l'iride è un si è sbellita l'immagine di diventata un serpente bene è Igor Ugor o un altro un altro sembra un altro va bene ok e osserva quando nasci dimmi se già sei collegata con lui nel momento della nascita pare di sì non so vai per esempio al momento in cui hai sei mesi di vita dimmi se ti vedi collegata con lui non lo capisco vai a quando hai due anni si sei collegata con lui si non so perché mi è arrivata l'immagine che a due anni sono stata ricoverata per un'urgente trasfusione ed era uno dei momenti in cui si praticava qualcosa a livello eterico ok quindi va bene e osserva se sei collegata sempre attraverso questi dischi sulla testa nella testa sì i dischi erano piccoli man mano perché con il tempo hai perso l'olfatto e il gusto mi hanno modificato il DNA non lo so dimmelo tu vai alla causa di questo cambiamento della perdita dell'olfatto e del gusto è qualcosa che ha a che fare con i rettili cosa hanno fatto Maria limitare nella vita limitare nella vita da cosa dipende il tuo blocco artistico vai alla causa del tuo blocco artistico se non vedi niente dimmelo e andiamo avanti no bene c'è una causa esoterica la tua sciatalgia sì crearmi problemi ad andare avanti nella vita concentrarmi nel dolore e assorbire la mia le mie energie le mie energie vitali causarmi stanchezza pesantezza stanchezza continua stanchezza per non gioire va bene togliere la vitalità beh ok osserva se nei due trattamenti che hai fatto nel corso della tua vita Ugor se ne ha approfittato trattamenti sulla mia persona no anche su altre persone il pendolo il reiki ed altri osserva se Ugor se ne ha approfittato certo mi ha preso tanta energia energia da chi? dalla mia energia mia fisiologica e dai clienti? hai fatto qualcosa con i tuoi clienti? no perché dovevano esserci degli ottimi risultati e affinché tu potessi continuare? certo ha provato ad interferire qualcuno durante i tuoi trattamenti? no quando chiamavi delle forze per il lavoro che facessero il lavoro cosa arrivava? cosa vedi? maestro San Germain da dove arrivava? in eterico da dove arriva? dall'alto osserva la fonte di questo maestro è un olografico un ologramma o qualcos'altro? sono tanti maestri ascesi questo in particolare di cui mi hai parlato adesso? ma li chiamavo tutti maestri ascesi li chiamavi tutti? sì e chi si presentava? non lo so però non li vedevo però il biotensor si muoveva a ogni comando ogni richiesta ad aiuto però adesso vedo queste come se fossero messe a semicerchio come se fossero proiettate e si frantumano cadono queste queste figure di questi maestri? queste immagini proiettate e si frantumano chi proiettava? ok chi proiettava queste immagini? Ugor Ugor le proiettava e comunque Ugor interveniva energeticamente nei trattamenti? e con lui c'è un vecchio vestito di bianco con la barba bianca e gli occhi enormi grandi azzurri che mi compenetro e arrivano quasi faccia a faccia beh adesso identifica per DNA eterico anche questo altro anziano chi è? è la mia guida una delle mie guida è una delle tue guide a quale specie appartiene il suo DNA? ha una forma forma strana come se fosse un alieno va bene ok adesso che hai visto tutto questo adesso che abbiamo ricostruito più o meno tutta la tua storia vuoi modificare questa situazione? sì vuoi avere il tuo apparato genitale completamente libero capace di riprodurre? sì vuoi disconnettere da qualsiasi essere libera e autonoma e indipendente? sì bene sai perché Ugor ti ha fatto la proposta ti ha detto che saresti stata bene che ti meritavi di più in quel posto quando hai lasciato il corpo di Isabel perché ha dovuto farti una proposta persuaderti e invece non ti ha preso con sé direttamente risparmiandosi questa fatica sai perché? perché sono più utile nella terra perché aveva bisogno che tu gli dicessi sì aveva bisogno del tuo permesso della tua autorizzazione per stare insieme aveva bisogno del tuo sì della tua accettazione e sai perché ne aveva bisogno? perché nessuno può entrare nello spazio energetico di un altro se questi non glielo permette nella tua sfera energetica vigge la tua essenza il tuo volere il tuo potere sei onnipotente in questo spazio loro lo sanno e sanno che per poter agire devono fare in modo che tu permetta loro di agire in te hanno bisogno che tu gli ceda il tuo potere e così accettandolo gli hai ceduto una parte di te una parte del tuo potere sono entrati in te hanno manipolato il tuo volere ma è sempre il tuo volere la tua volontà a muovere e a creare tutte le situazioni poi sulla terra non hai accesso alle informazioni è come se avessi dimenticato tutto sulla terra le percezioni sono davvero limitate non puoi accedere a certe informazioni e rimani lì bloccata in questo oblio senza sapere il perché succedono delle cose ma sei tu chi le gestisci da un'altra parte da un'altra dimensione io non voglio più tornare qua qua c'è solo sofferenza io vorrei ritornare da dove sono venuta adesso ti chiedo cosa succederebbe se tu cambiassi adesso la tua volontà con un gor nella tua sfera energetica cosa succederebbe se tu la cambiassi a sfavore suo a svantaggio suo te lo sei mai chiesto? no facciamo la prova? sì bene adesso con gli stessi impianti che lui ha utilizzato per connettersi con gli stessi strumenti che lui ha utilizzato per stare con te tu li usi per agganciarlo per imprigionarlo per legarlo quindi adesso è in una rete benissimo già fatto ottimo visto come la parte subliminale è attiva come capisce basta cedere l'informazione mi fai parlare con Ugor in questo momento? Ugor? sì sì che è successo mi ha messo una rete addosso e quindi cosa fai adesso? mi dimeno voglio uscire da questa rete ma anche lei voleva uscire dalla tua rete la sua stessa rete certo ma anche lei voleva uscire sai da quando? dal 1600 come fai a pretendere adesso di uscire tu dalla sua rete? e io cosa ci faccio adesso così? e lei cosa ci faceva colì? eh? cosa ci faceva lei con un anello nell'utero? cosa ci faceva lei con tre dischi nella testa? cosa ci faceva lei in quella situazione? mi nutriva? certo e adesso lei si nutre di te non si nutre di me lei non lo può fare bene allora rimani lì a rinsecchirti va è piccolo adesso chi sei? è piccolo Maria? sì sono io è diventato piccolo è diventato piccolo perché si è impaurito si è spaventato Maria adesso nelle tue mani c'è il tuo futuro la tua liberazione se vuoi chiamarla così chiamala come vuoi adesso puoi fare quello che vuoi tutto quello che succede tutto quello che fai succede nella tua sfera energetica lì sei onnipotente come dicevo prima per essere in pieno equilibrio bisogna avere questa sfera energetica pulita una cosa è interagire un'altra cosa è interferire lui stava interferendo in questa sfera energetica tu puoi fare di tutto puoi giocare con lui puoi distruggerlo puoi lasciarlo andare via comunque sia qualsiasi cosa tu faccia rimane si crea nella tua sfera energetica è diventato polvere bene quando non c'è più niente nel tuo spazio energetico dimelo di lui c'è solo la rete c'è solo la rete bene butta via anche la rete che è stata fatta con gli stessi suoi impianti ok bene adesso c'è qualcosa nella tua sfera energetica c'è qualcosa ancora di lui sì o no non vedo niente bene adesso osserva dove è andato a finire Google è sempre là in quella con lo slargo di questa piattaforma stellare bene fare girato dall'altra parte bene cosa hai fatto tu per mandarlo via dalla tua sfera energetica come hai fatto a farlo meglio dai con l'intento l'ho voluto e che c'è gente che pensa che distrugge questi esseri e non esistono più loro sono liberi e non fanno neanche del male agli altri questo indica un livello di coscienza di consapevolezza ancora non completo questo significa dare la responsabilità del problema all'altro e non a se stessi non si è capito che tutto dipende in qualche maniera dalla propria volontà e non si capisce che niente si distrugge ma tutto si modifica sì si può distruggere ma dove? all'interno della propria sfera energetica al di fuori la vita continua vi faccio sempre questo lavoro sto facendo sempre questo lavoro per per far captare l'informazione da tutti i punti di vista e adesso osservati nel tuo corpo dimmi se vedi degli impianti nel tuo corpo è come se avessi le braccia meccaniche intanto osserva nell'utero dimmi se c'è ancora quell'anello no osserva nella tua testa dimmi se vedi ancora i dischi li vedo e non li vedo come cioè dobbiamo toglierli meglio questo puoi farlo anche tu li prendi e li butti via ormai sono soltanto residui energetici prendi tutto apri un portale li butti o distruggili che poi è la stessa cosa l'importante è che escano dalla tua sfera energetica prendi i dischi prendi quella rete che mi dicevi che si diramava per la tua per tutto il tuo corpo prendi l'anello in luto se dovresti vedere ancora qualcosa lì lo vedi aperto quest'anello è sganciato adesso è aperto a metà eh butta tutto prendi tutto e buttalo via le braccia meccaniche prendi tutto quello che non ti appartiene e lo butti via liberati che lo faccia lui lo fai tu è la stessa cosa è la volontà quella che conta è la volontà che muove tutto è la volontà che lo fa ed è sempre solo la tua io io lo faccio io metto tutto in un sacco vai tu lo guardi tutto 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 lo lancio dal portale da questa finestra lo lancio all'universo e l'universo lo frantuma in mille scintille di luce benissimo adesso riguarda il tuo corpo e dimmi se vedi ancora qualche oggetto estraneo nel tuo corpo vedi qualcos'altro è una pollina nella nuca di chi è? o di chi era? ma faceva sempre parte del di tutto il resto c'è questa pallina buttala via falla sparire ok ricontrolla il tuo corpo questi ormai sono residui energetici e figurati tutto disattivato non funziona più niente però noi eliminiamo tutto per coerenza vedi qualcosa? sembra di no non mi soffermo su niente perfetto e adesso così con queste nuove condizioni esoteriche osserva il tuo futuro osserva il tuo futuro artistico come lo vedi? mi vedo che dipingo però c'è sempre un blocco finanziario in merito a questo futuro osserva se c'è una causa esoterica a questo blocco finanziario lo vedi dipendere da qualcosa? la paura però non non so se tu vedi della paura in te che è una tua energia la puoi prendere buttare via con un portale come hai fatto prima con gli impianti e il resto è una tua produzione energetica solamente sento la parola però non so la connessione tra la paura e il blocco nella mia vita finanziaria non importa se senti la parola paura cerca della paura in te dimmi se la trovi se la vedi se la senti nella nello stomaco prendi questa paura prendi questa energia con le tue mani energetiche e la butti per un portale fuori è una palla rossa butta la via ok e adesso che non hai più paura non hai più questa paura osserva il tuo futuro finanziario dimmi se hai cambiato non riesco a vederlo va beh osserva il tuo futuro la tua relazione coniugale sento vedo discussione osserva se i tuoi blocchi in qualche maniera sono condizionati da questa relazione anche bene energeticamente vuoi liberarti di questo peso di questa relazione energeticamente che significa? come vedi questa relazione? come ti vedi legata al tuo compagno? compagno? mi vedo legata affettivamente come lo metaforizzi? come vedi questa unione? abbiamo energie diverse penso che lui sia vuoi fare la prova a disconnettere energeticamente da lui e provare a rivedere il tuo futuro? e poi decidi se stare con lui energeticamente o meno Maria 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 è caduta Maria Maria la richiamo Maria? si ti sento ok sto registrando si è bloccato tutto non abbiamo il video ma abbiamo l'audio meno male che la sessione comunque era finita stavamo solo vedendo la relazione con il tuo attuale compagno lì si è fermato il mondo lì si è fermato tutto ma l'importante è che il lavoro sulla tua interferenza è stato completato come ti senti? un pochettino tranquilla fisicamente? no bene è stato d'animo? tranquillo perfetto ero sì perché cioè sono un pochettino così perché ho dovuto riprendere si non ti preoccupare è finita la sessione già era finita comunque da un po' stavamo soltanto visionando la relazione col tuo compagno ma il nostro lavoro era già stato finito niente io adesso ti lascio continuo con un'altra sessione ti chiedo solo se vuoi che si pubblichi la tua sessione su internet senza il mio viso il mio viso è completamente oscurato per favore va bene quindi chiudo la registrazione grazie aspetta online non te ne andare ciao sì ciao ciao